valbo capelli no osvaldo non so di che parli non so che osvaldo oh ma ricominciamo sto cercando uno alto e grosso con un pugno molto forte senza amico io sono un duro e se credi di fare parlare me se è cascato male e questo è il mio biglietto di abidità e questo è il mio lo chiamano orso ma il suo nome alla grafica alberto sarticoli nato settimino via garibaldi 33a ed evi residente più volte rifiudate dalla questura lavora santuariamente come bannino allo stabilimento mi ramai se vuole la compagna dottore